Buongiorno e benvenuti, seconda giornata di lavori per l'HR Director Summit, qui al Business Leader Summit, settimana di incontri e confronti tra i manager e le aziende operanti sul territorio italiano e non solo per parlare delle tematiche più importanti che stanno coinvolgendo e guidando il mondo del business di oggi e di domani. In questo momento vogliamo capire un tema cruciale, un argomento fondamentale che dopo due anni di pandemia ormai è diventato un vero e proprio driver dell'impresa moderna, il lavoro ibrido e lo facciamo insieme a Massimo Pegori che è CTO di Inaz. Innanzitutto grazie di essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Dunque, l'ibridazione del lavoro, tutti ne parlano, ci sono poi pensieri discordanti, c'è chi va verso questo obiettivo, c'è chi invece vorrebbe tornare un po' indietro per riavere le persone concretamente sempre in azienda. Qual è la soluzione migliore, cioè come si arriva all'obiettivo di un'ibridazione che sia davvero sostenibile e vada davvero bene per tutti? È una sfida sicuramente molto interessante e molto difficile. Sicuramente la pandemia ha contribuito a dare un'accelerazione dal punto di vista dell'adozione di tecnologie e di una modalità di lavoro per molte aziende totalmente diversa, quindi che molte aziende consideravano impossibile da attuare per una serie di considerazioni, di retaggi e di convinzioni. Il fatto di essere riusciti comunque a portare questa nuova modalità di lavoro all'interno delle aziende ha contribuito a dare più fiducia sicuramente in questo tipo di esperienza e in questo momento dopo due anni si inizia a vedere un po' più di concretezza, ossia si è riusciti a vedere quali erano gli aspetti positivi e quali negativi di questa adozione di emergenza, si è riusciti a comprendere che comunque c'è un valore aggiunto molto importante, ci sono ancora sicuramente, come si diceva, delle posizioni totalmente estreme, quindi su chi la considera un grandissimo valore aggiunto è un qualcosa su cui investire tantissimo e chi la considera in qualche modo un'onda che è destinata a infrangersi. Secondo me l'importante è riuscire a trovare la giusta combinazione tra queste due posizioni, cioè sapendo che comunque è un'onda e si sta muovendo, è giusto cavalcarla, è giusto non, vista la sua portata, non pensare di poterla indirizzare in una sola posizione, ma capire all'interno della propria azienda, in base alla propria maturità tecnologica, anche dell'azienda stessa, in base alle persone, alla maturità e all'esperienza tecnologica delle persone che lavorano in azienda, qual è il punto di partenza su cui intervenire, intervenire con la formazione, intervenire con l'individuazione di soluzioni tecnologiche che possono comunque aiutare a gestire in maniera più strutturata tutto questo aspetto, intervenendo soprattutto su quelle che sono anche le convinzioni da parte dei manager, quindi di coloro che comunque sono chiamati in questo momento a dare fiducia a quello che è l'aspetto positivo di questa nuova esperienza che stiamo vivendo, di questa nuova normalità, perché di fatto ci stiamo portando su questo tipo di posizione e quindi riuscire con questo a creare un rapporto di valore con i propri collaboratori. Ecco, questo è un aspetto importante, la fiducia e il rapporto di valore con i collaboratori, anche perché molto spesso per gestire, diciamo, l'ibridazione del lavoro, non tutti hanno le competenze necessarie digitali, di collaboration, per l'appunto, che sono alla base effettivamente della buona riuscita di questa trasformazione epocale. Quali sono le competenze dal vostro punto di vista più importanti per raggiungere il successo, diciamo, dell'applicazione e dell'implementazione in azienda di un modello come questo? Le competenze sono diverse, sono alcune molto più pratiche che sono proprio competenze legate alle tecnologie, nel senso che il riuscire a utilizzare questi nuovi strumenti di collaboration, di comunicazione, al meglio comporta comunque un investimento di formazione, proprio perché nella fase iniziale si è badato più nel momento di picco della pandemia, quando è iniziato il remote working, si è badato più a ottenere il risultato, che a come ottenerlo in maniera, diciamo, corretta per valorizzare il business all'interno dell'azienda. Quindi da questo punto di vista alcune sono competenze tecniche, che possono essere sicuramente gestite con una formazione ad hoc, altre sono competenze proprio sulla modalità di approccio di questo modo di lavorare ed è lì che il management e il middle management sicuramente è chiamato ad avere un ruolo molto importante perché bisogna riuscire a passare da una modalità di interazione diretta a una modalità in cui anche con questa versione ibrida c'è sempre qualcuno in azienda e qualcuno a casa, quindi ci sono sempre comunque da mettere in mezzo delle infrastrutture tecnologiche e qui che è importante riuscire a organizzare al meglio la comunicazione, riuscire a organizzare meglio la condivisione, il coinvolgimento, riuscendo a questo punto a fare in modo che le persone possano lavorare senza ritrovarsi in qualche modo isolate da un certo punto di vista per coloro che magari lavorano ancora molto da remoto, ma comunque anche riuscendo a evitare quello che sta accadendo sempre più spesso ultimamente, quindi invasione di mail, di messaggistica e di piccole riunioni perché si deve sopperire a quello che una volta era il passo di fianco alla tua schivania e ti chiedo una cosa e quindi il discorso si chiudeva lì. Per cui l'importante è in questo momento fare attenzione non soltanto alla quantità a volte di mail o di messaggi che girano per poter gestire questi aspetti, ma anche al deterioramento della comunicazione, al fatto che comunque ci sia un po' l'abitudine di affrontare questa modalità digitale, di comunicare come si faceva con la modalità fisica, dicendo tanto comunque capirà quello che intendo dire la persona con cui ho a che fare. Quando c'è di mezzo uno strumento, una mail, un messaggio o anche una riunione in cui magari c'è addirittura anche il video spento, perché ormai sappiamo che molto spesso la tecnologia ci permette comunque di vederci, però molto spesso si utilizza un po' a spot. Si preferisce evitare. Esattamente. Per cui tutte quelle sfumature che in qualche modo fanno parte della comunicazione normale si perdono sicuramente in questa modalità. Per cui è corretto riuscire a colmare questo gap cambiando modalità di comunicare, quindi prestando molta molta attenzione, partendo proprio dalla parte dell'approccio manageriale. Ecco, in questo senso tu hai detto una parola magica, anche proprio come e da CTO, infrastrutture. Chiaramente l'ibridazione del lavoro, l'espansione del periodo, scusami, del perimetro cibernetico dell'azienda ha allargato anche i confini della necessità di protezione e in questo senso le informazioni, quel passaggio di informazioni che non è più da scrivania a scrivania ma avviene digitalmente, deve essere gestito. Quindi ti chiedo, a livello della gestione dei dati a 360 gradi, dall'implementazione delle tecnologie emergenti alla protezione proprio del dato stesso, quali saranno le dinamiche, le logiche a cui prestare attenzione anche in futuro per gestire questo nuovo modello di lavoro? Una domanda molto interessante che meriterebbe sicuramente grandissimi approfondimenti su tutti i fronti che hai citato. Il fatto di comunque spostare in una modalità diciamo di lavoro ibrido quello che era un po' il lavoro classico all'interno delle aziende pone sicuramente dei problemi legati a come gestire i dati. Quindi non c'è più soltanto a gestire la sicurezza delle postazioni fisiche in ufficio ma c'è a gestire naturalmente anche la sicurezza nel momento in cui la persona lavora da remoto, a volte lavora anche sui propri device, a volte lavora anche in contesti in cui potrebbe esserci una mancanza di riservatezza per gestire determinate attività. Quindi lì si innescano vari livelli di attenzione a cui i livelli sono più sulla parte infrastrutturale di security e quindi vuol dire innalzare tutti quelli che sono gli elementi di attenzione su creare delle VPN o delle strutture che garantiscano comunque anche la compartimentazione dei dati che vengono gestiti. Dall'altra parte ci sono delle attenzioni che sono più anche di metodo che devono essere portati ai dipendenti che utilizzano questi strumenti quindi metodi di attenzione a dove si lavora e a come si lavora che non vuol dire limitare lo smart working vuol dire in qualche modo porre l'attenzione su anche elementi legati alla privacy che comunque sono sicuramente più soggetti a un'attenzione, a un rischio in questo momento. Poi se parliamo di dati in realtà il mondo si ampia ancora di più perché comunque le nuove tecnologie stanno portando anche grazie all'intelligenza artificiale anche grazie al metaverso che comunque è un'altra buzzword che comunque in questo periodo ha anche degli aspetti concreti su cui possono lavorare le aziende si stanno aprendo sicuramente mondi molto interessanti. Alcuni di questi sono già concreti per cui l'intelligenza artificiale in una sorta di curva di struttura tecnologica è già a un livello molto avanzato la troviamo già anche nel mondo di char applicata su diversi fronti. La parte legata al metaverso invece è ancora un po' più se vogliamo embrionale ha comunque delle potenzialità molto grandi ma sono ancora comunque legate anche ai device quindi la parte più hardware che deve essere utilizzata però ha sicuramente delle potenzialità molto importanti da un punto di vista proprio di coinvolgimento delle persone anche in un contesto di lavoro ibrido il fatto di poter comunicare con le persone non soltanto attraverso il video che si accende come dicevamo prima a volte non si accende perché la web è spenta ma attraverso anche un avatar che magari si muove in una realtà che è quella aziendale in qualche modo anche se senza un contatto fisico tra le persone permette di avvicinare un po' di più queste nel loro ambito lavorativo e soprattutto nell'esperienza che potrebbe essere anche quella di un neossunto che arriva in azienda e magari per qualche ragione non può vedere l'azienda o durante un colloquio per quanto riguarda la selezione il fatto di proiettarlo all'interno di un'azienda virtuale che ricrea l'ambiente, le strutture e ciò che dovrà fare anche in ambiti formativi il fatto comunque di apprendere determinate cose senza averle materialmente lì ma perché con la realtà aumentata le posso vedere all'interno del mio occhiale è comunque un qualcosa che porterà in futuro grazie proprio anche all'abbinamento con il lavoro ibrido e soprattutto grazie allo stretto legame tra la parte HR e l'ICT porterà secondo me dei grandissimi valori aggiunti per tutte le aziende e questo è un link è un collegamento molto importante sicuramente perché poi ormai il digitale permea tutti gli ambiti dell'azienda e chiaramente in questo momento stiamo parlando delle risorse umane ma poi va a 360 gradi noi ti ringraziamo di essere stato con noi e dei tuoi spunti grazie a voi grazie a voi